Oggi siamo alla Nanta Samakon Tron Hall. Se siete stati al Palazzo Reale, con lo stesso biglietto è compresa la visita di questo palazzo, purché sia fatta nella stessa giornata. Per l'abbigliamento vale sempre lo stesso discorso del Palazzo Reale. La Nanta Samakon Tron Hall è uno dei più grandi edifici della zona d'Uzit ed è stato costruito dal Re Rama V. L'edificio, in stile rinascimentale, fu commissionato a due architetti italiani, Annibale Rigotti e Mario Tamagno. La Nanta Samakon Tron Hall è una costruzione a due piani, con una grande cupola centrale alta quasi 50 metri. All'esterno si può ammirare questa bellissima pagoda. Sempre all'esterno si possono ammirare questi bellissimi giardini. All'interno dell'edificio, ospita la mostra permanente Art of King. Dove sono esposti numerosi oggetti fatti a mano secondo tecniche tradizionali da abili artigiani. L'orario d'apertura è da martedì a domenica dalle 9.30 alle 16.30. Nel video di settimana prossima vi porto al Vata Run o Tempio dell'Alba. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Buona domenica a tutti. Ciao!